Buonasera a tutti, benvenuti al consueto webinar delle ore 18 di Investire.biz come ogni lunedì con me, Luca Discacciati ed Enrico Lanati. Benvenuto Enrico. Buonasera a tutti. Eccoci qua, dovreste sentirci bene, dovreste vedere appunto il nostro schermo così da fare questa oretta insieme dove vedremo i mercati finanziari, vedremo un pochettino come muoverci a livello di trading durante questa settimana che ci accingiamo appunto a cominciare. Settimana che è iniziata davvero con il botto, tra virgolette, perché come possiamo vedere passando subito la parte operativa sui grafici, questa mattina abbiamo dato un bellissimo segnale a rialzo sul cambio GBPUSD. Enrico, raccontaci un po' la natura di questo segnale e cosa possiamo aspettarci adesso? Guarda, questo segnale è nato sulla base di diverse considerazioni, le prime erano legate a considerazioni di carattere macroeconomico, visto che sappiamo che questa settimana ci saranno tantissimi dati molto importanti per il dollaro americano. E poi ovviamente abbiamo utilizzato anche il software Forecaster che dava una previsione per oggi estremamente interessante, quindi abbiamo fatto 2 più 2, abbiamo messo insieme quello che era il Forecaster, insieme a quelli che erano i dati macroeconomici, quelle che potevano essere le indicazioni che arrivavano sulla sterlina e sul dollaro e abbiamo dato questo segnale operativo a rialzo. Ecco, infatti devo dire che Enrico da quando è arrivato il Forecaster davvero abbiamo passato a un livello proprio successivo la nostra operatività, guardate nella fattispecie qui, guardate. Qui cominciava il rialzo e vediamo subito andando a cliccare, proprio dava l'inizio del rialzo verso le 5 di questa mattina e il Forecaster prevedeva un massimo nell'intorno del primo pomeriggio, diciamo dalle 14 alle 15. Se andiamo a vedere il grafico, guardate che cosa è successo, guardate qui è esattamente successo quello che ci si aspettava. Guardate qua che bel rialzo che c'è stato, tant'è che appunto abbiamo deciso di entrare al rialzo e siamo qui appunto con una posizione che guadagna 300 dollari in questo momento, che io direi di andare a chiudere Enrico. Sì, si può tranquillamente liquidare questa posizione, visto che comunque abbiamo anche altre posizioni interessanti in vendita sul dollaro. E la voglio chiudere Enrico, scusami se ti interrompo, la voglio chiudere perché guardate qua, con un'operazione facciamo 270 dollari, incassati in questo momento. Perché voglio fare questa operazione? Perché se voi andate sul sito forecaster.biz, dove vi invito ad andare alla fine di questo webinar, vi accorgerete di una cosa. Ecco, vi sto mandando il link, che se andate alla pagina abbonamenti, vedete che un mese di questo software lo potete avere con 99 euro. Quindi sostanzialmente noi abbiamo appena fatto un'operazione che ci ha pagato, con un'operazione ci siamo pagati tre mesi di abbonamento. Quindi voi immaginate quante operazioni potete fare con l'accesso illimitato che si ottiene a questo software, in quanto passando poi ci sono anche altri cambi, ci sono tutti i cambi principali, potrete vedere avanti quanto vi pare nel futuro. Quindi, quello che io vi voglio dire è, valutate l'ipotesi di abbonarvi a questo strumento, perché è veramente potente. Ci sono in questo momento, oggi siamo arrivati, Enrico mi diceva prima Sara, a 50 persone che stanno già utilizzando questo software e sono tutti, tutti, tutti entusiasti. Quindi mi raccomando, so che la cifra sembra essere alta, ma se la utilizzate con cognizione di causa, veramente come è successo oggi a noi, con un singolo trade, vi ripagate assolutamente l'abbonamento. Quindi è importantissimo spendere i soldi bene, in questo caso voi fate un investimento molto importante, molto interessante per il vostro trading, perché guardate qua, oggi era assolutamente da provare il rialzo su GBPUSD, cosa che noi abbiamo fatto, anche poi basandoci su altri strumenti di trading. La cosa migliore da fare è sempre unire due tecniche, quindi in questo caso voi potete utilizzare o l'analisi tecnica e il forecaster come faccio io, oppure come fa Enrico, analisi fondamentale più il forecaster. E vedrete che vi troverete bene e queste cifre degli abbonamenti diventeranno davvero una sciocchezza. Tra l'altro se volete sapere come andrà avanti questa previsione nei prossimi giorni, che volutamente abbiamo bloccato alla data di oggi, è molto semplice, perché voi potete fare cinque giorni di prova semplicemente procedendo con l'inserimento dei dati. Se voi cliccando per esempio qui su compra ora, un mese, vedete che sostanzialmente aderite all'abbonamento, ma attenzione, i primi cinque giorni sono una prova. Poi, se entro questi cinque giorni voi volete eliminare il vostro abbonamento, non volete pagarlo, non vi viene addebitato niente. Ho detto tutto corretto Enrico? Mi dimentico qualcosa? Assolutamente tutto corretto. È uno strumento, tra l'altro tu mi dicevi 50 persone, secondo me sono molte di più, perché se ti ricordi noi abbiamo presentato questo strumento presso Borsa Italiana negli scorsi giorni e avevamo dato le password per un mese, una password temporanea per un mese a tutti quanti gli iscritti e c'erano almeno altre 50 persone. Quindi insomma, 40 persone, insomma un numero di questo tipo. Quindi sicuramente le persone che lo utilizzano in questo momento sono molte di più. Quindi siamo contenti di averlo creato e di utilizzarlo in questo momento. No, è incredibile, guarda, proprio poi oggi anche al telefono mi sono sentito con uno dei partecipanti del corso Vivere di Trading, scusate, siccome ne parlerò della strategia 9924 al tour che farò con IG settimana prossima, Madonna, sono un po' impallato oggi e appunto ce l'ho un po' in testa. Parlavo proprio con una persona che ha fatto il corso Vivere di Trading e ha detto, cavoli ragazzi, già le cose che ci avevate insegnato giugno scorso funzionano benissimo e stiamo facendo un sacco di soldi. Adesso col Forecaster diventa davvero ancora più interessante fare trading e più facile. Sembra davvero un gioco da ragazzi perché semplicemente bisogna semplicemente attenersi a fare le operazioni dove tutte le cose vanno nella direzione corretta. Per esempio, guardate, oggi ho pubblicato anche questo articolo GBPUSD con il Forecaster, appunto guardate nella settimana scorsa, quindi da lunedì scorso fino praticamente a oggi, come era la previsione e come effettivamente poi è stato l'andamento del GBP, cioè guardate qui e guardate poi quello che è successo. Ovviamente ci sono delle piccole differenze, per fortuna perché se no avevamo inventato un qualcosa di troppo potente, in verità così unendo appunto analisi tecnica e Forecaster si riescono davvero a fare dei numeri pazzeschi, veramente pazzeschi. Quindi a costo di rompervi le palle in maniera esagerata, ma vi dico, valutate l'ipotesi di abbonarvi. Andate sul sito forecaster.biz, è spiegato tutto quanto, come funziona, come funziona l'algoritmo, non ci sono segreti, semplicemente abbiamo creato questo programma per mettervi nella condizione di utilizzarlo e fare del trading assolutamente profittevole. Quindi mi raccomando, valutate l'ipotesi di abbonarvi. Quindi c'è anche la prova gratuita di 5 giorni, così che possiate vedere dove va il GBPUSD nelle prossime ore, se su oppure giù. Noi per oggi ci siamo presi questa soddisfazione, questo rialzo, questa soddisfazione al rialzo, quindi almeno su questo cambio lasciamo il campo. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, possiamo andare avanti a vedere anche altri cross, altre cose, insomma, magari non con forecaster, ma facendo proprio l'analisi, perché questa la lasciamo a chi si abbonerà, facciamo proprio invece un'analisi di carattere tecnico su altri cross. Bene, bene, bene. Allora, io vorrei far notare una cosa, perché ogni tanto è giusto, tra virgolette, anche un po' tirarsela. Settimana scorsa, al webinar del lunedì, avevamo detto che la borsa era pronta a esplodere verso l'alto, ed effettivamente i prezzi poi hanno confermato. Abbiamo fatto anche delle interessanti operazioni anche sull'azionario, abbiamo banca generale sulla quale stiamo facendo 2260 euro di profitto, anche in questo caso davvero con un numero di titoli limitato, quindi col fatto che con la piattaforma DG si possa operare a margine, davvero stiamo facendo dei numeri molto molto interessanti. Euro-Dollaro, noi siamo al ribasso, anche in questo caso grazie al Forecaster che ci aveva segnalato il ribasso per tempo, cosa facciamo in questo momento? Perché cominciano adesso ad arrivarci le email delle persone che giustamente sono in forte profitto e vogliono realizzare? Enrico, a te la parola, poi ti dico la mia. Allora, innanzitutto qui bisogna fare una valutazione, dipende se vogliamo avere un orizzonte temporale molto breve o un po' più lungo, perché l'orizzonte temporale comunque più lungo, vuol dire da qua fino a fine anno, è comunque per una forza del dollaro, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo essere di norma short Euro-Dollaro e io sono convinto che potrà raggiungere anche livelli molto interessanti intorno ad area 1.08, 1.07, anche più in basso se a dicembre la Fed deciderà di alzare i tassi di interesse. Detto questo, secondo me sposo un po' la tesi che ho trovato sul sito investire.biz, c'è un articolo che ne parla, proprio su Euro-Dollaro, del fatto che secondo me nei prossimi due giorni assisteremo ad un modesto rialzo, nell'ordine secondo me intorno all'1%, potrà arrivare a mio avviso intorno al livello di 1.12, perché? Perché ci sono tanti dati macro rilevanti e il dato più rilevante sarà il FOMC announcement, quindi l'annuncio dei tassi di interesse, o meglio della decisione politica monetaria da parte della Fed. Questo secondo me, visto che si concluderà a mio avviso con un nulla di fatto, quindi senza rialzo dei tassi, senza nulla di particolare, sposterà il cross Euro-Dollaro al rialzo. Quindi l'Euro-Dollaro, secondo me, potrà tornare in area 1.12, perché è un po' la contromossa della Fed. Abbiamo visto settimana scorsa la mossa di Draghi, sono quelle candele rosse che vediamo in questo momento. Quindi Draghi ha detto, svaluto un pochettino il mio Euro, e di fatti l'Euro-Dollaro è sceso di circa tre figure. A questo punto è la volta della Fed, che non ha nessun interesse a vedere il dollaro apprezzarsi, e quindi secondo me la mossa della Fed sarà volta a riportare i prezzi intorno ad area 1.12. Quelle saranno ottime occasioni di vendita, quindi io sono convinto che mettersi short adesso, forse un po' presto, la Fed ci aiuterà ad avere dei prezzi più interessanti per poter shortare nuovamente. Quindi dopo la Fed, secondo me, bisogna andare short ancora. Bene, 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 bene. Guarda, io senza parlare appunto di Fed eccetera, voglio farvi vedere questo grafico, perché come sai a me piace, mi piace molto ragionare in termini molto semplici. Quello che io voglio farvi notare è questo, ovvero è stata rotta questa trendline al rialzista che dura da marzo scorso, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi di trendline, questo significa sostanzialmente che il ciclo superiore a questa trendline ha svoltato al ribasso. Chi ha seguito i nostri corsi sa che il target, quindi l'obiettivo di movimento di una rottura di questo tipo, non è nient'altro che la trendline precedente. Siccome qui trendline precedenti non ce ne sono, dove la troviamo la trendline precedente? La troviamo qui, ovvero sul grafico settimanale e la troviamo qui. Quindi, se io devo azzardare una previsione, io vedo, dato che adesso siamo nel mese di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile del 2016, vedo il livello della parità, perché se io applico le regole che io stesso insegno poi a chi viene a fare i corsi da noi, questo è, è stata rotta una trendline su questo grafico, ok, eccola qui, che chiaramente adesso non si vede benissimo, perché questo è un grafico settimanale, l'obiettivo di prezzo è come minimo 1,05, ma questa trendline disegnata sul grafico settimanale di lungo termine è una potente, potente, potente calamita. Quindi, continuiamo, Enrico, a essere ribassisti e tutte queste opportunità che si stanno verificando, questo rialzo, per esempio, in questo momento che si sta verificando, secondo me è una bella opportunità per mettersi short. Cosa ne dici di inserire un ordine? Siccome noi, guarda, ti faccio vedere, abbiamo una posizione short di 0,5, di mezzo contratto, perché mezzo contratto l'abbiamo portato a casa, chiaramente, che ne dici di mettere un ordine pending a 1,11 short su euro-dollaro? Sì, lo possiamo fare, tra l'altro ho visto, mentre facevi vedere i grafici, ho visto a che livelli siamo entrati short su quell'ultima operazione, siamo entrati veramente a livelli assurdi, a 13,70 praticamente. Esatto, sì, sì. Esatto, e poi li vedete, dopo Draghi abbiamo liquidato metà della posizione. Lo possiamo vendere? Io, onestamente, ti dico, secondo me va anche qualcosina più in alto. Facciamo 11,50. E' troppo? Sì, perché, no, no, va bene, perché comunque io sono convinto che nei prossimi giorni, vuoi o non vuoi, insomma, con la riunione della Fed, la volatilità si crea, uno spike al rialzo, secondo me, dopo la Fed lo fa sicuro, e da lì dobbiamo essere veramente attenti. Ah, una cosa importante, non ve lo segnalano in molti, siete abituati ad aspettare la Fed alle ore 20, l'America ha un problema con i riferimenti ai fusi orari, nel senso che li aggiorna di solito qualche settimana più tardi, e quindi questa volta il FONC non sarà alle 20, ma sarà alle 19, perché noi abbiamo già aggiornato l'ora legale. Ok, ok, ok. Ci vorrebbe un volenteroso Enrico che con le tecniche che avevamo visto nel corso Dai Energia al Tuo Trading vada a calcolare esattamente il punto di ingresso, tra l'altro ricordo a chi ci ascolta che tutti i nostri corsi sono disponibili su formazione trading. Nella fattispecie, eccolo qua, nel corso Dai Energia al Tuo Trading avevamo insegnato un modo per identificare esattamente i punti corretti, diciamo che secondo me 1,11,50 potrebbe essere un po' troppo alto, 1,11 è troppo basso, possiamo per tagliare la testa al toro diciamo 1,11,25. Sì, 1,11,25, 1,11,20 poi al massimo se vediamo che ci sarà uno spike estremamente forte a 12,20, 12,30 potremmo anche pensare di incrementare la posizione. Certo, 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 assolutamente. Tanto dalla nostra abbiamo il nostro alleato Forecaster che come poi si è visto nelle previsioni del tempo che abbiamo inviato durante il weekend anche questa settimana dovrebbe essere comunque tendenzialmente negativa. Per chi se lo fosse perso Forex Weather Forecast ecco qua eccolo qua vi mando il link così che vi possiate vedere il video con la previsione del tempo che è molto bello, molto divertente e in pratica abbiamo accostato le previsioni del tempo con il grafico del Forecaster in base a quello che è poi appunto la previsione di andamento. Quindi vedete, dai, se vi piace insomma aiutateci a far conoscere questo nuovo modo di comunicare le previsioni sul Forex che a noi ha divertito molto. Allora, Roberto... Anche Forecaster diciamo comunque dai maggiori ribassi nella giornata di venerdì se poi si va a vedere quel video e io sono abbastanza d'accordo cioè io sono convinto che appunto avremo questi due giorni diciamo abbastanza tranquilli tendenzialmente al rialzo e poi vedremo il cosiddetto sciacquone insomma nei giorni successivi. Esatto. Quindi sono in linea con la previsione di Forecaster. Esatto, esatto. C'è Roberto che dice ma perché non liquidare la posizione in attesa di rientrare a 1,1150? Roberto, semplicemente perché non siamo sicuri al 100% che vada fino lì. Noi siccome siamo comunque ribassisti nel medio termine vogliamo essere dentro perché pensiamo appunto come abbiamo appena detto che il cambio euro-dollaro possa scendere ancora di molto quindi sarebbe un peccato non essere dentro capito? Quindi manteniamo manteniamo le insomma manteniamo le posizioni aperte. C'è già successo con l'Italy 40 di uscire ti ricordi? No ma attenzione Enrico non vorrei essere ma io perché mi sono svegliato alle 2 di notte qua cioè adesso questa qui te la farò pesare a vita perché se tu guardi a che ora è stata aperta questa posizione guardate qua dovrei però questa posizione qua aspetta devi andare sulla piattaforma e andare sull'apertura vabbè comunque fidatevi di me siccome Enrico aveva fatto quello che diceva adesso l'amico l'amico che ha appena appena fatto la domanda avevamo chiuso lo short perché si era accontentato e voleva entrare un po' più in alto io vedendo la forza che aveva la tendenza del forecaster non me la son sentita di non essere dentro e ho forzato un po' l'operatività e mi sono messo short meno male perché se mi fossi perso questo ribasso qui con il forecaster che ci dava ribasso probabilmente o mi sarei ammazzato o avrei ammazzato Enrico quindi per fortuna che mi sono svegliato di notte e ho fatto questa operazione allora c'è Claudio che ci chiede scusa Luca vediamo cosa dice il forecaster no Claudio non lo vediamo perché il forecaster appunto giusto per tutelare chi ha l'accesso e ha pagato un abbonamento lo lasciamo riservato a chi ha appunto pagato quindi se volete mi raccomando abbonatevi tanto veramente ve lo ripagate con il trading non fate i taccagni perché come avete visto oggi con un'operazione ci si paga tre mesi di abbonamento quindi mi raccomando allora vediamo un pochettino altre domande vediamo un po' un attimo solo che vediamo un pochettino Filippo a Filippo piacciono le previsioni del tempo forex vediamo un po' allora Marco chiede il ribasso di oggi su USDCAD può essere considerato una buona occasione per prendere nuove posizioni al rialzo andiamo a vedere il grafico USDCAD allora vediamo subito USDCAD eccoci qua perfetto Enrico di questo cross ne abbiamo parlato diffusamente durante gli ultimi trading live è un cross che noi vediamo al rialzo e che secondo noi potrebbe tranquillamente continuare a salire i prezzi sono scesi ma sono scesi di una trentina di pip nella giornata di oggi quindi comunque una cosa estremamente modesta se andiamo a prendere il grafico giornaliero ci rendiamo conto di quanto sia importante il movimento che ci possiamo attendere nel senso che c'è stata quell'inversione dove i prezzi sono andati fino sotto il livello di 1,30 ma era una cosa legata principalmente al prezzo del petrolio sapete che c'è una correlazione inversa tra USDCAD e il prezzo del petrolio lì c'era stata una sparata importante del prezzo del petrolio che aveva fatto crollare le quotazioni di USDCAD nel frattempo però comunque il quadro tecnico non sembra essere compromesso e quindi in realtà noi ci attendiamo un dollaro forte nei prossimi mesi quindi comprare dollaro comunque non è sbagliato e questi sono prezzi ancora secondo me interessanti io sono convinto che questo cross nel lungo termine andrà a fare nuovi massimi oltre il livello di 1,34 quindi ogni storno è un'ottima occasione di acquisto secondo me bene 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 certo noi eravamo entrati molto meglio se prendi il grafico mini proprio si vede che eravamo entrati su un livello estremamente interessante vediamo USDCAD mini contratto beh certo era stato proprio un bel bel trade questo guardate qua che punto di ingresso sai che l'hanno fatto in tantissimi ve ne avevamo parlato nell'ultimo nel trading live quando ne avevamo parlato veramente tantissime persone c'erano venute dietro con questo trade e sono convinto insomma che e molti secondo me ce lo hanno ancora perché è un trade nel quale avevamo fatto proprio una disquisizione piuttosto lunga all'ora il massimo 1,34 rapporti rischio rendimento non chiudere la media mobile ancora orientata al rialzo veramente una bella analisi quindi spero che tutte le persone che seguono il trading live che sono tante ce l'abbiano ancora esatto perché questo posto è destinato a salire ancora infatti c'è Marco Marco dice confermo io ce l'ho ancora appunto è una posizione che è aperto durante il trading live mi raccomando siccome questa sera c'è tanta gente nuova ne approfitto per far due parole sul trading live il trading live è esattamente come il webinar che stiamo facendo adesso solamente che è riservato ai clienti e dura due ore due ore nelle quali appunto essendo poi molte meno persone perché qui siamo oltre 100 persone durante il trading live siamo come minimo alla metà si riesce davvero ad affrontare le tematiche in maniera un po' più approfondita si riesce insomma a concentrarsi un po' di più anche sul trading qui chiaramente dobbiamo fare dei discorsi generali mentre nel trading live invece riusciamo proprio a entrare nello specifico del trading quindi mi raccomando se ancora non avete mai partecipato chiedete informazioni potete mandare una mail a info chiocciola investire punto biz mettendo il vostro numero di telefono la nostra assistenza clienti vi chiama e vi spiega anche come è possibile partecipare gratuitamente quindi potete partecipare o a 49 euro oppure appunto c'è il modo di partecipare gratuitamente quindi mandateci una mail che molto volentieri vi spieghiamo vi spieghiamo come come fare c'è Giorgio che dice scusate mi sono perso un paio di minuti alla fine mettiamo un pending a quanto su euro dollaro a 1.1120 abbiamo messo questo livello di ingresso dove appunto se i prezzi dovessero raggiungere tale livello noi incrementiamo nuovamente la nostra posizione short siccome in tanti mi state dicendo che finito il webinar andrete a sottoscrivere l'abbonamento al forecaster vi dico mi raccomando utilizzatelo con cognizione di causa e non vi dimenticate le cose che avete imparato fino ad oggi il top è utilizzare il forecaster congiuntamente all'analisi tecnica avete visto che per esempio adesso noi pensiamo che l'euro dollaro debba continuare a scendere però non è che ci fissiamo e ci giochiamo la madre sul possibile ribasso andiamo comunque a vedere i grafici cerchiamo di capire che cosa è successo e vediamo dove inserire un ordine sensato dove appunto i prezzi possano accelerare al ribasso comunque ad ogni modo nei prossimi giorni cominceremo anche a pubblicare dei video dedicati proprio al forecaster e perché no comunque chiedeteci anche dei pareri insomma siamo qui siamo qui per per aiutare ok quindi mi raccomando quando è finito poi il webinar se volete andare sul sito forecaster saremo felici in quanto sicuramente ne avrete dei benefici come abbiamo visto con un'operazione ci si pagano tre mesi di abbonamento quindi non vedo perché non dovreste farlo molto meglio che l'abbonamento di Sky invece di guardare le partite guardate il futuro sui cambi quindi mi raccomando allora vediamo un pochettino adesso andiamo a parlare di indici andiamo a parlare di indici perché qua insomma anche qui abbiamo fatto davvero delle belle 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 operazioni a un certo punto da che eravamo completamente ribassisti per tutto diciamo il periodo estivo fino poi appunto al mese di agosto dove ci aspettavamo dei ribassi che effettivamente sono arrivati a un certo punto ci siamo girati sempre sfruttando al massimo quelle che è il know-how acquisito sulla stagionalità e abbiamo cominciato a puntare al rialzo i rialzi sono effettivamente arrivati e a questo punto Enrico dal punto di vista tecnico ti dico che è molto probabile che questo test e spalle che già monitoravamo da parecchio tempo sia finalmente appunto andato in porto e cosa significa questo vedete magari anche per chi è un po' meno esperto questo è un bellissimo doppio test e spalle eccolo qua con addirittura due spalle per parte dov'è il target di questo movimento il target di questo movimento è la proiezione del collo la proiezione dello spazio che c'è tra il collo e tra la linea del collo e la testa quello che ho fatto io con questa linea proiettata verso l'alto vediamo una cosa molto interessante che guarda caso guarda caso la proiezione ci dà sostanzialmente un indice italiano al di sopra dei 24.000 punti io personalmente sono davvero mesi che sostengo questa questa ipotesi l'avevo sostenuta anche durante la trasmissione forex time che è stata fatta in streaming a milano in collaborazione con IG dove tra l'altro di tutti gli analisti che erano intervistati in quella giornata ero l'unico ad essere assolutamente rialzista quindi questo mi fa ulteriore piacere Enrico tu come la vedi hai qualche elemento magari dal punto di vista macroeconomico da aggiungere questo quantitative easing che sembra volersi spostare anche sulle borse potrebbe far salire i mercati raccontaci un po' beh considera che se allora Draghi che cosa ha detto la settimana scorso lui ha detto che vorrà fare un quantitative easing più grande nella quantità e probabilmente anche più lungo nella tempistica questo cosa vuol dire vuol dire inondare il mercato dei capitali di liquidità e è evidente che inondando il mercato dei capitali di liquidità non si fa nient'altro che drogare il sistema ma un sistema che viene drogato sicuramente a rialzo perché qualcosa dovrà pur comprare e se lui compra tutti i bond che ci sono in circolazione gli altri i rendimenti dei bond andranno a zero sono già a zero chi vuole investire chi ha liquidità da investire di fatto è obbligato a doverla mettere sul mercato azionario quindi io questo ritengo che salirà i massimi sopra 24.000 non li ritengo assolutamente lontani anzi sono convinto che il massimo 24.000 verrà rotto e l'indice italiano sarà uno dei maggiori indici penso che sarà uno dei maggiori performer del 2016 ma anche della fine del 2015 con il famoso rally di fine anno mi raccomando una cosa importante perché io molto spesso quando parlo con gli utenti del forex live scusami del trading live mi dicono eh sì perché io cerco di gestire la posizione metto lo stop in pari lo stop in profitto allora c'è un livello che è molto importante che è il livello di 22.500 punti no? ora chi è entrato long con noi seguendo gli ultimi segnali operativi eh immagino che si stia spostando pian pianino il livello di stop eh vicino a eh sempre più vicino occhio perché secondo me a 22.500 un spike potrebbe essere rifatto ma quello non è assolutamente un punto sul quale chiudere la posizione quindi è un punto sul quale riaprire la posizione uno stop in pari o in profitto su quei livelli secondo me non va affatto bene perché da 22.500 non dobbiamo uscire dalla posizione ma dobbiamo rientrare nella posizione quindi secondo me da lì bisogna iniziare a ricaricare le posizioni a rialzo con con forza secondo me un test in quell'area la fa bene 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 poi mi raccomando continuate a seguire il sito investire.biz perché adesso fisiologicamente ci si aspettiamo appunto un ritracciamento ma già da domani potrebbero esserci anche dei segnali operativi interessanti anche sui titoli quindi mi raccomando perché guardate che ci sono dei bei titoli che eh potrebbero dare delle belle 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 le soddisfazioni quindi insomma rimaniamo rimaniamo connessi e venite spesso a trovarci su investire.biz perché come vedete tutti i giorni nel mentre che facciamo il nostro trading comunque dato che non siamo degli scalper accaniti non facciamo trading ogni minuto comunque abbiamo il tempo anche di aggiornarvi su quello che su quello che facciamo tant'è che appunto tra le operazioni più belle che abbiamo fatto ultimamente assieme allo short euro dollar long dell'indice italiano abbiamo anche questa banca generale appunto che continua a darci delle belle soddisfazioni tra l'altro oggi non è l'unico titolo di cui abbiamo parlato Enrico perché abbiamo anche parlato di banca IFIS banca IFIS andiamo a vedere è un titolo che fino ad oggi non ne abbiamo mai parlato tantissimo perché appunto era un titolo che era venduto tra virgolette nel nel report azionario siccome adesso è passato un po' di tempo oggi ne abbiamo parlato noi l'avevamo avevamo l'avevamo comprato quando il titolo stava a 18 euro per azione quindi davvero qualcosa di molto molto interessante chi ha comprato il report lo sa chissà se c'è qualcuno questa sera collegato che ha comprato il report vediamo un pochettino c'è Andrea appunto che scrive idoli puntini puntini lui ha comprato il report sono veramente contento questo è un titolo assolutamente clamoroso che nessuno in pochissimi conoscono tant'è che secondo me questo titolo dovrebbe valere il doppio ma non è così e questo titolo proprio nella giornata di oggi ha fatto i massimi storici di sempre guardate questo titolo il mondo se ne sta accorgendo adesso guardate che dividendo 06 025 037 057 066 con il titolo che sale cioè questo titolo è incredibile signori questo titolo è assolutamente incredibile e oggi ha segnato i massimi storici di sempre ok quindi mi raccomando guardate che la piattaforma di IG ci dà la possibilità di investire davvero su tantissimi strumenti e anche sui titoli come nel caso di banca generale si riescono a fare delle belle operazioni molto molto interessanti anche con un po' di leva e quindi anche Francesco dice che ce li ha insomma ecco il fatto che abbia fatto comunque i massimi di sempre oggi non vuol dire che debba essere venduto nel senso che io per dire che ce li ho personalmente io questo titolo me lo tengo e come quindi continuerò a mantenerlo in portafoglio perché secondo me è destinato a fare ancora meglio ecco probabilmente domani venderemo banca generali perché appunto vogliamo fare un po' di trading vogliamo portare a casa questo bel profitto e lo sostituiremo con qualcos'altro però ancora non ci siamo non ci siamo confrontati su questo probabilmente nella videoanalisi di domani con perché Enrico lo vuole tenere io lo voglio vendere quindi come al solito siamo 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 su due fronti opposti io vorrei fare un po' di trading un po' più diciamo veloce anche se poi di fatto veloce non lo è perché banca generale ce l'abbiamo da una settimana quindi insomma vedremo vedremo Enrico lo vuole tenere perché a livello di dati fondamentali anche banca generale è un ottimo titolo io lo preferirei vendere perché vorrei farci un po' di trading voi cosa fareste voi lo otterreste o lo vorreste vendere massimo dice banca generale ancora non è sui massimi è vero assolutamente verissimo perché se andiamo a vedere il grafico di banca generali ecco qui allora un attimo solo vediamo che in passato è stato anche più in alto quindi noi abbiamo calcolato come abbiamo detto oggi nel ecco qua come abbiamo detto oggi nel report che ho scritto un fair value compreso tra 30 e 35 certo che dopo questi rialzi questi tre giorni di rialzi insomma ricomprarlo magari a 27 non sarebbe male ecco tutto lì dobbiamo dobbiamo un attimo vedere c'è Giuseppe che dice portare profitto a casa porta a casa Andrea porta a casa insomma mannaggia siete tutti tutti così vediamo vediamo beh dai comunque possiamo dire di aver fatto correre un po' i profitti insomma questa è anche una piattaforma di trading è giusto utilizzarla per quello che è poi è normale che io ho preso anche banca generali banca IFIS con la banca normale e quelle me li tengo chiaramente però per il trading bisogna anche consolidare un pochettino secondo me niente ti devo convincere con più veme allora settimana scorsa non abbiamo parlato di materie prime quindi andiamo a vedere cosa succede nel mondo appunto dell'economia reale in questo caso andiamo a vedere il gold che dopo un massimo in aria 1190 sta ritracciando qui Enrico diciamo che questi rialzi così importanti quasi fino a 1200 non mi piacciono tantissimo però diciamo che non è neanche cambiato niente dal punto di vista sostanziale ecco il trend a mio avviso rimane sempre comunque al ribasso tu hai cambiato idea oppure sei ancora io non me li aspettavo onestamente questi movimenti così così importanti che abbiamo visto fino ad aria 1190 in ogni caso noi una posizione al ribasso ce l'abbiamo ancora una posizione abbastanza modesta è forse l'unica posizione che abbiamo in perdita al momento in piattaforma siamo entrati a livelli di 1140 dobbiamo considerare che il gold è uno strumento estremamente volatile quindi in realtà non è così impossibile che possa perdere 10-15 dollari in un giorno a livello di movimento quindi non sono ancora per il momento preoccupato penso che il livello importante potrebbe essere una chiusura sopra il livello di 1200 dollari l'oncia per il momento rimango ribassista e continuo a sostenere il fatto che possa comunque questo trade dare profitto nel medio termine quindi sono condito che possa scendere e vedi che quando poi si mette ad andare al ribasso come per esempio in questo caso ma anche in questo poi si muove davvero molto velocemente quindi al rialzo non si è mosso velocemente quindi sostanzialmente ancora non mi preoccupa abbiamo invece fatto bene a chiudere la posizione sullo slot polacco perché allora andiamo a vedere sul forex euro p dov'è che è euro pln perché questo qua invece come io mi aspettavo sta salendo e qui Enrico secondo me si potrebbero valutare degli ordini pending per entrare al rialzo perché qui l'analisi tecnica ci sta consigliando assolutamente un rialzo e potrebbe essere anche un rialzo interessante dato che guarda qua questo potrebbe essere appunto un target secondo me troveremo questo cambio a 4,5 un cipettino glielo vogliamo mettere guarda questo cambio mi sta era andato molto forte su questo cambio nella prima metà dell'anno nella seconda metà dell'anno mi ha fatto letteralmente impazzire perché ho iniziato a perdere un po' la luce su questo cross questo cross è arrivato a 4,25 più volte vedi tutti quei livelli che giustamente hai segnato quando hai disegnato il triangolo più volte poi da lì ha ricominciato a scendere però non ha mai avuto tutta questa forza per tornare in basso poi giustamente ha rotto al rialzo il fatto è che onestamente comprare un l'euro con un governatore della banca centrale che di fatto dice voglio svalutare voglio svalutare per lungo tempo in maniera ancora più massiccia mi sembra una follia mettersi al rialzo su questo cross però devo dire la verità che tutte quelle che erano le mie considerazioni poi in realtà sono servite solo a sbagliare qualche trade quindi in questo caso penso che sia l'analisi tecnica ad essere più forte in questo momento perché io qui ci vedrei quello che penso a livello proprio di analisi macroeconomiche è che questo cross deve scendere per forza questa è la considerazione che mi faccio perché non ha senso che con Draghi che si mette a dire a fare quello che fa questo cross possa salire poi di fatto quello che vediamo è un'altra cosa vediamo che questo cross invece sta salendo ha rotto un triangolo rialzista e questo cross è possibile che vada a 4.30 a 4.35 quindi non guarda c'è Andrea Massimo Filippo che ci dicono guardate che ci sono state anche le elezioni quindi potrebbe essere condizionato da questo è vero avendo la quella non legata all'euro esatto io dico che secondo me un cipettino qui si può mettere perché una delle strategie con cui io mi trovo meglio è come sai Enrico la seguente ovvero se penso una cosa e questa cosa non succede mi ribalto e mi metto al contrario quindi io un long qui lo metterei e poi vediamo cosa ne dici? sì 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 tanto io su questo mi fai fare un lotto o vuoi fare le posizioni dai mezzo lotto dai fai un lotto dai fammi fare un lotto perché se no veramente siamo siamo qui a giocare allora euro PLN un lotto entriamo e domani ci pensiamo benissimo sono contento perché io mi trovo molto bene al corso vivere di trading avevamo appunto anche visto ti ricordi che dicevamo signori facciamo tutto perfetto se poi non succede quello che abbiamo preventivato si chiude e si gira benissimo questo secondo me e lo dovevamo fare prima e guarda che qua non ho insistito settimana scorsa ma io volevo già farla questa roba qui magari eravamo già anche un po' inattivo però fa niente dai tanto c'è spazio vabbè dai con l'angelo abbiamo comprato perché abbiamo chiuso tutte le operazioni che avevamo in vendita quindi di fatto abbiamo comprato perché qui ti volevo qui ti volevo perché tu settimana scorsa mi hai fatto chiudere metà posizione poi non mi ricordo tu dove cavolo sei stato c'è stato un giorno che non c'eri e io te l'ho chiuso pure l'altra metà e ho detto sempre non mi ricordo dove sei ah ecco giusto mercoledì tu sei andato in borsa italiana al trading online expo io invece sono rimasto in ufficio e ho chiuso le posizioni ho detto senti buonanotte io le voglio chiudere le ho chiuse quindi insomma staremo staremo a vedere abbiamo fatto bene sono contento e adesso ci siamo messi long c'è qualcuno che ha fatto questa operazione vediamo un pochettino se qualcuno ci ha ci ha seguito vediamo un po' Andrea l'ha fatta ma sul dollaro quindi ha fatto con usdpln interessante interessante questa questa operazione Riccardo ci ha seguito insomma un po' di persone ci hanno seguito ci sono tante domande sul cambio euro franco che evidentemente torna in in auge allora vediamo un pochettino questo è il grafico giornaliero il appunto per il cambio oggi ha fatto questa bella candela e si è riportato in area 1.08.65 qui Enrico a livello macroeconomico come c'è qualche novità c'è qualche indicazione che ci possa far propendere per il rialzo e il ribasso guarda questo cross è molto particolare se allora partiamo dal concetto che tutto quello che dice la banca nazionale dopo quello che è avvenuto diciamo inizio anno va sempre preso un pochettino con le pinze però la banca nazionale svizzera ha detto guardate che secondo me un valore indicativo del cross euro franco può essere in un range che va tra 1.05 e 1.10 dopo che ha detto questa cosa all'inizio dell'estate il cross da 1.05 è andato fino ai livelli di 1.10 con quello spike che vediamo a livello di massimo e adesso sta ritracciando sta tornando in area 1.08 secondo me questo cross va tradato sugli estremi nel senso che va tradato a rialzo nelle fasi diciamo basse diciamo di questo canale e va tradato a ribasso quello che dovesse tornare in area 1.10 io non penso che si muoverà tanto continuerà a muoversi in questo range soprattutto se tra l'altro Draghi continuerà a svalutare insomma io penso che rimarrà rimarrà in questo range potrebbe tornare in area 1.07 1.06 e 50 insomma se Draghi deve essere a svalutare bene allora due parole velocissime in quanto me lo state chiedendo in molti allora io settimana prossima sarò impegnato nel forex ecf di tour ovvero un appuntamento itinerante appunto sarò a Catania Napoli Roma Firenze Verona a Catania sarò il 2 di novembre a Napoli il 3 a Roma il 4 a Firenze arriveremo il 5 e poi l'ultima tappa appunto il 6 novembre a Verona durante questa il forex ecf di tour io parlerò della strategia 9924 la spiegherò nei dettagli ne parleremo insomma sarà davvero una bella occasione per incontrarvi tra l'altro sarò con un mostro sacro del trading online che è Bruno Moltrasio che ho già visto l'ho visto in borsa l'altro giorno è molto carico era molto contento di fare questo tour con me mi raccomando venitemi a trovare perché a me piace conoscere persone che poi ci seguono quindi oltre ad essere molto interessante dal punto di vista del trading è anche bello così insomma mi piacerebbe appunto che foste in molti della comunità di investire punto biz a venirci a trovare siccome me lo state chiedendo in tanti è previsto un webinar vedete qui sempre sul sito di di IG per il mese di novembre nella fattispecie per il giorno 9 con titolo strategia 9924 questo webinar qui in questo webinar non spiegherò la strategia 9924 ma è semplicemente un webinar che abbiamo programmato subito dopo il tour per rispondere alle domande quindi mi raccomando venite al tour venite a vederci a seguire i nostri il nostro i nostri interventi mi raccomando iscrivetevi perché tra l'altro da ieri è partita anche la pubblicità su radio 24 di questo tour e quindi i posti stanno veramente finendo mi raccomando iscrivetevi sarà davvero bello io sono davvero contento Alessandro mi chiede se spiegherò la 9924 completamente certo 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 ok non perché ci sia un motivo particolare ma IG mi ha pagato IG mi paga per stare una settimana fuori dall'ufficio chi mi conosce sa che mi ha dovuto pagare bene perché altrimenti non ci andavo e quindi ha detto devi venire devi dire qualcosa di interessante allora io gli ho detto guardate più interessante e più bello della 9924 al momento non c'è niente se volete mi pagate vengo e vi racconto quello perfetto quindi ci siamo messi d'accordo così sarà una figata atomica quindi non mancate per ultima cosa mi raccomando iscrivetevi al trading live che sarà il giorno 29 con Enrico due ore di operatività non mancate soprattutto se volete entrare un po' più nello specifico non come facciamo qui nel webinar del lunedì dove diamo delle idee però chiaramente poi non possiamo entrare nello specifico delle singole posizioni e poi per ultimissimo mi raccomando valutate di abbonarvi al forecaster perché il vantaggio competitivo che vi dà questo strumento è atomico atomico veramente imparate ad utilizzarlo non utilizzatelo da solo ma unitelo congiuntamente all'analisi tecnica con l'analisi fondamentale e davvero avrete in mano un bazooka per fare trading quindi posso aggiungere Luca questo strumento è molto bello perché quella che è l'analisi tecnica normale ce l'avete voi e ce l'hanno in mano anche gli altri è una cosa assolutamente diffusa quindi dove sono i livelli di stop di target bene o male possono essere individuati anche magari dai investitori diciamo istituzionali con questo tipo di sistema voi avete invece la possibilità di avere una visione completamente nuova e diversa sul mercato e quindi questa è la sua vera forza perché vi dà anche un punto di vista differente bene 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 signori siete tantissimi che già lo state utilizzando siete tantissimi che sarete al forex ecf di tour mi raccomando arrivate belli carichi che sarà comunque una bella una bella iniziativa per chi vuole vedere come va avanti il grafico del GBPUSD e vi assicuro che è molto interessante e già nelle prossime ore è presente il trend che vi paga l'abbonamento per tre mesi fate la prova gratuita andando sul sito appunto forecaster.biz nella pagina degli abbonamenti e abbonatevi al pacchetto che preferite se non vi abbonate poi non vi lamentate perché a gennaio aumentiamo i prezzi io ve lo dico buona serata a tutti e buon trading c'è Enrico buona serata a tutti e buona serata a tutti